Un'altra meravigliosa fanciulla che è una componente, l'altra cantante dell'orchestra di Matteo Tassi. Non mi ricordo il nome, facciamo finta di niente, diciamo, è allora... Aurora! Aurora! È l'Aurora! Aurora! Non è troppo alto! Io vedo che Matteo è molto sensibile alla bravura, infatti... No, è vero, è vero. Se in Umbria mangiate bene, è il tartufo che è l'Aurora. È l'Aurora. Tartufo da quelle parti, è così. Neanche se metti una gru diventi alto con l'Aurora, tu, Caprio. Quanti ne ne diamo adesso? Uno? Basta, no? A due, perché è due. E lui vai con le prove in microfono. Eh, lo so, lo so. Tu che sei esperto. Da quanto tempo che canti con Matteo? Eh, sono fresca fresca perché... Fresca si vede. Poi da qua... Me la son cercata. Me la son cercata. Sì, sì. La son cercata, d'accordo, poi... E fresca fresca da poco tempo, quindi... Sì, a gennaio, ho iniziato questa. Come gennaio? Siamo a gennaio adesso. Sì, ha detto da poco tempo, 16 giorni. Uno gennaio. Uno gennaio, dal primo gennaio. E quindi allora, un in bocca al lupo. Una parte meno incredibile. Tanta fortuna con questa orchestra, questa dell'Umbria. Cosa ci canti? Che importa se. Eh, che importa se. Va bene. Aurora per voi. Vieni, vieni. Vieni, siamo. Ti hanno detto mai, occhi come i tuoi, fanno innamorare chi li guarda. Belli sì, da far girare la testa, verdi come gli anni spensierati che tu hai. Ma ti ho detto mai, quello che già sai, se sorride, ride anche il mio cuore. E ogni giorno un po' sono felice sai, perché quei sorrisi a me li dai. Che importa se, io voglio te, anche se so che sei più giovane di me. L'amore no, non ha un'età, io prendo tutto quello che la vita dà. Che importa se, se tu vuoi me, se io sto bene solo quando sono con te. Non mi stancherò di dire che mi piaci da impazzire, senza dubbi né paure t'amerò. Quando gli altri poi parlano di noi, è perché non vogliono accettare. Che l'amore no, non conosce età, è di invidia, muoio, non si sa. Che importa se, io voglio te, anche se so che sei più giovane di me. L'amore no, non ha un'età, io prendo tutto il bello che la vita dà. Che importa se, se tu vuoi me, se io sto bene solo quando sono con te. Non mi stancherò di dire che mi piaci da impazzire, senza dubbi né paure t'amerò. Che importa se, se io voglio te, sappiamo che potrà finire prima o poi. Ma non sarà mai finita, fino a che la nostra vita sarà bella se restiamo insieme a noi. Ma non sarà mai finita, fino a che la nostra vita sarà bella se restiamo insieme a noi. Maestro velocissimo allora, ricordiamo il libro. Nino De Franco, sono allergico alle donne e alle fragole, questo bellissimo libro, dovete leggere, dov'è, dov'è, dove sono qua? Lì. Dovete leggerlo perché fa molto ridere, velocemente, c'è una parte che è dedicata agli artisti, no? Sì. Un gruppo rock, Lino in misto terital. Ma pensa che meraviglia. Sì, sì, sì. Però so che il 2 maggio, mercoledì 2 maggio sarà qui a presentarci questo libro. Lo presentiamo in diretta a tutti? Lo presentiamo in diretta a tutti. Io l'ho letto, è molto molto bello, fa ridere. Quindi, sono allergico alle donne e alle fragole, Nino De Franco. Nino De Franco, mi raccomando, andatelo a comprare, è veramente spiritoso. E con questo noi vi salutiamo. Una sigla che va a ringraziare innanzitutto il nostro pubblico. Un applauso per il nostro pubblico. E poi abbiamo, con un po' più di volume, cambio, davvero un po' più di volume, che ringraziamo la grande orchestra di Matteo Tassi. Un ringraziamento particolare anche ai ballerini che vengono da Cantignaga. Il suo nome ce lo dirà Abdel e Salsero. E poi abbiamo un grande saluto da fare e un ringraziamento a Fabio, musica in live. E con noi ci crea compagnia, allegria, con le sue gag, Alex Cabrio. Grande compagna di viaggio, oggi un po' costipata, ma sempre bellissima, Nadia Ballesi. E' giovanissima, è stata una sorpresa di queste ultime settimane, Veronica. Un grazie a tutti voi da casa, amici che ci seguite, ai cameraman, alla regia di Video Novara. Ciao! Ciao! Ciao!